Se si sentisse di rassicurare un pubblico abbastanza largo di giornalisti RAI, circa 1800, che credo, vista la sua posizione oggettiva, possano essersi sentiti un po' intimiditi nell'essere definiti a lei infimi sciacalli nell'occasione che riguardava la trattazione della cronaca da parte di alcuni di loro della vicenda giudiziaria che ha riguardato e riguarda la sindaca di Roma Raggi. L'altra osservazione che vorrei farle è che non crede che tutto sommato potremmo mettere, non dico per iscritto, ma insomma un impegno serio da rivolgere all'azienda per cui istituiamo obbligatoriamente un contraddittorio politico. Per ogni volta che un politico va in televisione ci deve essere un altro, penso a trasmissione approfondimento, che possa contraddirne dal punto di vista. Prima di tutto mi sento di rassicurare i giornalisti RAI in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche, non hanno mai generalizzato, anzi io penso che i giornalisti RAI, proprio in riferimento al tema del contraddittorio, siano il primo presidio di contraddittorio in ogni dibattito, perché sono i giornalisti in qualsiasi, e lo vivo da esponente politico che partecipa a tantissime trasmissioni di TV, siano prima di tutto i giornalisti a dover richiamare l'intervistato alla verità, al fatto rispetto all'opinione che esprime l'intervistato su dei fatti. Noi abbiamo individuato persone con competenze e sensibilità che vanno in una direzione precisa della gestione della nostra RAI, ma allo stesso tempo quelle persone devono essere libere, ci mancherebbe altro di poter prendere decisioni autonome sui vari dossier. Su questo sicuramente è auspicabile che per esempio in RAI ci possano essere sempre più occasioni di far checking non solo rispetto ai temi che ci appassionano di più come politici, ma in generale anche sul tema della scienza, sul tema generale di quello che succede nel mondo. Mi dispiace e dispiace anche a me che ci siano poche trasmissioni di dibattito politico in prima serata, anzi forse una, ma noi, e dico noi anche se io stavo all'opposizione alla precedente legislatura, le abbiamo regalate alla concorrenza, fior fior di professionisti invitandoli, mettiamola così, ad andare via della RAI, parlo di Giletti, parlo di Floris, parlo di Giannini, parlo della giornalista Gabanelli e parlo di Porro, ormai sono tutti regalati alla concorrenza con un danno anche economico, non solo di trasmissioni nella nostra TV pubblica. È chiaro che c'è qualcosa sicuramente che in RAI va ristabilito, lo abbiamo detto tutti nelle nostre campagne elettorali, si chiama merito, meritocrazia, come la si vuol chiamare, merito. Io spero il prima possibile che si possa continuare a portare avanti segnali forti in RAI, io do atto all'attuale governance della RAI di aver premiato sicuramente talenti interni. Non è stata fatta una scelta da osservatore perché le scelte che hanno fatto loro non è stata fatta una scelta sui direttori di rete, sui direttori di Tg, sui vice direttori di persone principalmente esterne. Si crede nella struttura RAI, a quanto vedo, si crede nei talenti interni e da questo punto di vista ci sono state anche delle riconferme rispetto al passato, penso al direttore di RAI 3. bisogna proseguire nel dare segnali interni di merito a persone che magari in tutti questi anni erano state un po' emarginate, erano state anche un po' considerate quelli che dicevano troppi no e quindi non erano favorevoli a determinate dinamiche. Mi si chiedeva se FOA, se ritenevo compatibile la nomina di FOA, la ritengo compatibilissima le elezioni di FOA e soprattutto credo che sia un giornalista che possa dare un grande lustro alla RAI e possa fare bene in RAI. Ci abbiamo creduto tantissimo, ci crediamo tanto in questa governance se lo incoraggiamo ad andare avanti. Non c'è nel contratto di governo alcun cenno alla privatizzazione di canali RAI.